E adesso andiamo a conoscere uno dei personaggi che ha portato una ventata di stile dal Canada fino in Italia, gioca nelle Aquili e Frank da Frenza. E quando andiamo a giocare a giuniori a un po' di stile, sapete che sei seriosamente per il gioco. Se volete farvi un giorno di giocare un giorno, non lo sapete. Ma se volete fuori da casa a giocare, gioco, gioco, fotografico, hai una passione per il gioco e sapete quello che vuoi fare. Il luce in Europa, non solo in Italia, ma in tutto l'Europa, il luce è più grande. Quindi c'è molto più scato, non so molto spazio di spazio, non so molto spazio di spazio e di città. C'è più spazio di europeo. Hockey in Canada è come soccer in Italia. È il passione, è il passione, tutti i coppagni, tutti i barzi, parlano di hockey in Canada. In here, parlano di soccer. So, all little kids growing up in Canada, quando si starta scatando quando sei 4 anni, e poi si starta spazio di club quando sei 5-6 anni, e poi si continuano spazio di questo. E poi si spazio di junior hockey, e poi, come soccer qui, devi andare da tua casa per giocare e per sviluppare come un giro. La scena, non stai spazio professionale. I spazio di club in Canada, e mi piacciono il sentimento di tutti insieme, e la comaraderia di tutti i giocatori, all the players together, all the home, here, on the road, on the bus. Just everything about the game, it just makes you feel good. I remember my first season in Italy, I played in Vipiteno. And we, it was the same as Ponteva, it was their first season in Serie A. And we had a great year, we beat Asiago and Fasa in the semi-finals, to go into the finals against Bolzano. And I remember the second game in the finals, I scored three goals, and it was probably, it was a great feeling, just to know that the whole city of Vipiteno was proud, proud of the team, and I was a part of that day, so it was a good feeling. We beat Asiago